Sait, quale evoluzione al titolo del convegno oggi che ha celebrato i 120 anni della cooperazione di consumo Trentina che chiuso il capitolo ristrutturazione, guarda avanti con rinnovato ottimismo anche sul fronte della personale. È noto come Sait abbia passato anni difficili, delicati, ma grazie alla dedizione, all'impegno e alla volontà è alle spalle questo periodo. Io ritengo che oggi Sait possa in maniera coscienziosa guardare avanti con una prospettiva di strategia sul territorio per valorizzare il proprio ruolo anche attraverso la rivisitazione di punti vendita, nuove aperture e questo lo stiamo effettivamente facendo. Guarda avanti con ottimismo Sait nel festeggiare con un convegno alla Sala della Cooperazione i suoi 120 anni, un focus su evoluzione e prospettive del Consorzio delle Cooperative di Consumo che ha puntato sulla ristrutturazione dei negozi di Via Grazioli a Trento e Via Nazario Sauro a Rovereto e sta per avviare a gennaio il rilancio del Superstore di Trento Sud nel quale verrà incorporato un ristorante. Abbiamo un programma di investire una somma vicina ai 3 milioni e mezzo per ristrutturarlo completamente o renderlo un po' la nostra ammiraglia, lì cercheremo veramente di fare qualcosa non al passo con i tempi ma più avanti. Ma le tendenze di mercato indicano che i consumatori stanno riscoprendo i negozi di vicinato. Noi crediamo, quindi al nostro avviso, al nostro punto di vista, che ci stia riscoprendo, rivalorizzando quelle superfici medie di prossimità che sono presenti nelle nostre città. Crediamo di poter affermare che il modello degli ipermercati, quindi degli enormi negozi dove i consumatori si deve muovere a volte e una volta alla settimana per fare la grande spesa siano magari da rivedere e da ripensare in chiave più moderna. Noi come site abbiamo evidentemente un'altra parte che è più sociale che è il presidio di quei piccoli negozi di comunità che sono caratteristica peculiare del Trentino e che è nostra precisa volontà di difenderle perché siamo convinti che chiudere quei punti di vendita vuol dire veramente impoverire il nostro Trentino e le nostre comunità. E anche sul fronte personale, secondo il Presidente, gli anni delle forche caudine sono passati. Sono stati passi assolutamente imprescindibili, doverosi, li abbiamo fatti con grande attenzione ma anche con grande, perdonatemi, sofferenza. Oggi diciamo che quel periodo è alle spalle.